Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un video molto speciale, faremo un video della Monster, Ossilemonade, finalmente ragazzi, è stato in Italia, è stato uscito in Italia, ragazzi, infatti l'abbiamo comprato ieri, no no, l'hanno comprato papà, che cos'è, è una Monster unica, vabbè ragazzi, non perdiamoci tempo, quindi è le canettine, vi daremo il video, lasciate like, iscrivetevi al canale, attiva la campanella, questa è Monster Juicy Ossilemonade, versione italiana, Vabbè, proviamo, e iniziamo subito, ok ragazzi, sentito, ok, limone, sa di limone, insomma, mi sa che sa tipo, non la sprite, adesso ragazzi vi farò vedere il colore, sembra lemon soda, mi sa, guardate il colore, ragazzi, mi sa che sembra lemon soda, Ok, detto del colore, questo è esattamente, è il colore, della Monster, ok, vabbè, vai, raga, pronti, tre, no, mi hai già, È lemon soda, questo è lemon soda, sa di tipo di lemon soda, no, raga, fa schifo, che ho potuto dare il Lossi Lemonade? Due, io ho sette e mezzo, perché, perché, raga, farete, mette, vomitare, ma il limone fa bene, insomma, bene tutto, No, raga, allora perché non ti bevi il tè al limone? Perché, non ne so, non mi piace, e allora? Allora, questo è il tè al culo, eh? Ok, il tè al limone. Ragazzi, oggi faremo di nuovo una sfida su FC Se fa bene, hai capito, il tè al limone fa bene anche Non fa vomitare, a me non mi fa vomitare, perché il limone fa bene, perché è tipo un tè al limone Il fido a fuoco, eh, è arrivato, raga, è arrivato, l'avete vista la seconda paglietta da Juve? Eccola qua Eccola, ragazzi, è appena uscita ieri Sì, nel cavolo, però E mette da fuoco È giallo, già si vede, già si vede Già si vede che è giallo Ok La Juve rompe gli indiruggi Eh, ragazzi, scusali, ma non è ancora finito Ma ce l'abbiamo? Che? Questa mostra? Eh, però non la vedo, mi sa proprio No, non ce l'abbiamo Vite, ragazzi, restate il saluto Eh, un attimo, sto mettendo una mostra Questa, raga, è una nuova mostra Aspetta Poi abbiamo con per l'amore un'altra No, spera, ma fammi vedere se ce l'abbiamo Aspetta che ti riprendo, aspetta Aspetta che ti riprendo No, ragazzi, non si vede Vai, vai lassù Secondo me già ce l'abbiamo Eh, è proprio il disegno Eh, ti sto a dire Aspetta Ma davvero ce l'abbiamo? Non c'è Sì Che? Non lo vedo il disegno, ce l'abbiamo? No, fai vedere meglio, però che stai lì Vai a vedere, vedi? Vai a vedere Vedi, vedi un attimo Aspetta Ti ho topevo un attimo 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 Vabbè Ma che stai a dire? Eh, no, insomma, si vede il disegno là Ma su No, vedi bene? Dietro quale monster? Oh, dividere L'ho visto Dietro quale monster? Dietro davanti a quella da monster classica Dietro quella da monster classica No, insomma, che stai a combinare Aspetta No, no, no No, insomma, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo L'ho visto L'ho visto Ma che stai a dire? No, insomma, l'ho visto Ma quando mai? Aspettate, ragazzi, che mi vuole un po' stupido No, insomma, l'abbiamo Ma che stai a dire? Oh, ce l'abbiamo Mannaggia Oh, insomma, che stai facendo? Ma che stai a dire? No, di, vedelo bene Oh, madonna, insomma Oh, vedi tu? Oh, insomma, non c'è mai Ma che stai a dire, che ammela Voglio vedere, ragazzi, vai Voglio vedere Voglio vedere Eh, vedi, gli stai a dire Oh, porca mia Oh, come è? Devi spostarti Oh, come è? Devi spostarti Oh, come è? Devi spostarti Oh, sono troppe mosche Ma non c'è? Oh, c'è? C'è, guarda, guarda, c'è Prendila Oh, madonna, insomma, te... Ma che stai a dire? Oh, madonna! Ahia! Eccolo Zio Cucuriella Zio Cucuriella C'è, guarda, ce l'abbiamo Da, che palla, regà Ce l'abbiamo Zio Cucuriella Zio Cucuriella 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 Mando le registrazioni a Nicolò, ragazzi Zio Cucuriella 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 Zio Cucuriella Cucuriella Zio Cucuriella Zio Cucuriella Zio Cucuriella Zio Cucuriella Zio Cucuriella Zio Cucuriella Ma che stai a dire? E ci abbiamo Ragazzi, speriamo che questo video sia piaciuto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao